ben trovati ben trovati a tutti quanti voi ci siamo chi ne ha scoperto le carte per la juventus non c'è l'illecito ma gli contestano la lealtà sportiva cioè l'articolo 4 in pratica non possono mandarla in serie b perché non ha commesso illecito però con l'articolo 4 la lealtà possono fare quello che vogliono ma andiamo ad approfondire un pochettino il tema di questa giornata molto molto particolare che riguarda appunto questa 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 guerra che la figi ci sta facendo alla juventus quindi non c'è l'illecito già questa è una cosa molto molto importante molto interessante devo dire molto particolare anche perché io vi invito a riflettere ci può essere mai lealtà sulla manovra stipendi la lealtà sportiva è un'altra cosa cioè la lealtà o l'eventuale slealtà è avviene nei confronti di altre squadre come ci può essere lealtà nella manovra stipendi in un rapporto tra un calciatore e una società fermo le stando che la juve ai calciatori li ha riempiti di di milioni di euro e via dicendo quindi si è giocato un po il jolly chi ne non avendo in mano niente come dicevamo appunto sulla manovra stipendi potranno scrivere dire tutto quello che volete potranno dare ulteriori punti di penalizzazione e ulteriori condanni alla juventus non crederemo mai che la juventus agito molto male rispetto a quando ci dicono loro non c'è l'illecito nemmeno questa volta c'è l'illecito ce lo hanno detto loro la lealtà la lealtà sportiva solitamente si punisce con un'ammenda di 200 euro di 300 euro la lealtà che poi diventa lealtà andiamo un pochettino a vedere questa contestazione la violazione del principio di lealtà dunque questo quanto scritto nell'atto di notifica presentato dalla procura della fede del calcio alla juventus per la chiusura delle indagini per le cosiddette manovre stipendi partnership agenti il procuratore chinesi appella all'articolo 4 non può fare altro questo delinquente mascalzone non può fare altro non gli va bene arrivare all'articolo se c'è preciso sugli stipendi e c'è l'articolo è il 31 che invoca anche il numero 4 mette insieme tutti e tre i filoni praticamente con la contestazione che si va ad aggiungere alla questione plus valenze per la quale è previsto il 19 aprile un giudizio di legittimità del collegio di garanzia del coni sulla penalizzazione di 15 punti per i bianconeri le posizioni degli altri 6 club sabdoria atalanta sassuolo udinese bologna e cagliari che hanno trattato sottoscritto comunque pattuito con la juventus accordi confidenziali in operazioni di mercato senza provvedere al deposito della modulistica federale e provvedendo a depositare documenti le cantipatuzioni diverse da quelle concluse saranno valutate a conclusione delle indagini in corso da parte della magistratura questo che cosa significa significa innanzitutto che la juventus viene giudicata rispetto al 24 ottobre cioè alle conclusioni delle indagini del 24 ottobre quella slealtà già l'ha pagata con i 15 punti di penalizzazione poi hanno aperto altre inchieste le altre procure perché i faldoni sono passati appunto dalla procura di torino alle altre procure e quindi poi ci saranno le richieste per gli altri club la juventus per la lealtà sportiva lo dice l'avvocato del napoli chiacchio ha già preso 15 punti di penalizzazione allora che cosa stanno vedendo qui l'imbroglio questi delinquenti stanno praticamente vedendo se alla juventus toglieranno meno i punti il prossimo 19 di aprile per cui se toglieranno i punti alla juventus faranno una richiesta perché dice non ha pagato per le per la realtà sportiva se invece confermeranno i 15 punti come io credo che questi si sono messi in testa di voler colpire la juve secondo il principio della continuità nella legislazione nella legislazione nella diciamo nella diritto non ci può essere una pena superiore alla a quella dei 15 punti altrimenti si va al tar perché bisogna agire in punta di diritto ma lo dice l'avvocato del napoli non lo dice sergio messicchio quindi stanno cercando di imbrogliare stanno cercando ancora di giustificare la loro il loro assenso e poi vediamo perché proprio oggi perché proprio oggi è uscita la degradatoria di chi ne andiamo avanti per un attimo entrando nel merito sotto la lenda di ingrandimento dei membri della procura federale sono finiti gli accordi degli stipendi delle stagioni 2019 2020 e 2020 2021 quelle condizionate dalle misure per la pandemia figuriamoci un po figuriamoci un po che delinquenti questi qua questi della procura federale e non la juventus secondo gli inquirenti avrebbe alterato i bilanci secondo gli inquirenti la giustizia sportiva rileverebbe anche la gravità della redazione di accordi privati tutt'altro che consentiti dalle norme federali la juventus ha già chiarito che non sono contratti sono i contratti che vanno depositati quelli sono gli accordi ufficiali il contenuto dell'atto di notifica inviato alla procura fgc al club bianconere fondamentale poiché apre a specifici scenari in termini di ammende penalizzazioni inibizioni ma anche sul piano delle tempistiche con la juve che ora ha due settimane di tempo per presentare le sue controdeduzioni sui tre filoni contestati al termine di questo periodo scattano i deferimenti veri e propri poi entro 30 giorni il tribunale fissa il processo quindi se ne parla fine maggio almeno per il momento eh la juventus presa missione degli atti potrà decidere di avanzare una proposta d'accordo proponendo una sanzione economica o di penalizzazione che sia diminuita fino ad un massimo della metà di quella prevista nel caso in cui si precedesse in via ordinaria quindi non si può parlare di patteggiamento perché il patteggiamento non esiste l'intreccio sotto la lente di grandimento è quello che aggroviglia la conclusione del primo fascicolo sulle plusvalenze con l'inizio del secondo sulle manovre stipendi due iter indipendenti eppure in qualche modo inevitabilmente connessi tra di loro la strategia difensiva della juventus potrebbe risultare influenzata dall'esito e come vi dicevo dell'udienza al termine della quale il collegio di garanzia dello sport si esprimerà sul meno 15 inflitto in classifica in campionato e allora vediamo quali sono gli scenari che si possono aprire addirittura adesso quasi quasi per come la pongono uno deve sperare che i 15 punti non gli ritolgono addirittura un conto è pensare ad un patteggiamento da seconda forza del campionato alle spalle del napoli quindi se tolgono i 15 punti ma non c'è il patteggiamento patteggiamento è un accordo che si trova non è un'ammissione di colpa alle spalle del napoli un altro cercare una quadra di concerto con la procura federale in seguito a una conferma del meno 15 sentenziato dalla corte federale d'appello è un discorso simile ma opposto nella logica potrebbe far breccia anche tra i pensieri del procuratore giuseppe chinè al momento di avanzare la richiesta di eventuali sanzioni sul fronte manovre stipendi il tutto naturalmente con la serie a arrivata ormai al rettilineo finale il caos a cavallo tra pede e maggio più certo che probabile allora mi sembra che il quadro è abbastanza confuso apparentemente sempre chiaro ma invece è confuso è confuso perché è evidente che se invocano la lealtà sportiva perché vogliono punirla ma la lealtà sportiva ve l'ho già spiegato l'hanno già richiamata il 20 gennaio scorso la lealtà sportiva è una cosa molto seria ma non deve essere un grimaldello per fare come gli pare ai giudici non deve servire dice con la regola 4 con l'articolo 4 noi facciamo penalizziamo ad capoicam la juventus o chi per essa devono motivare si deve motivare ecco perché i 15 punti dati e non motivati la volta scorsa pendono seriamente sul giudizio del corte d'appello federale scusatemi del del coni appunto loro hanno già in mano l'articolo 31 per quanto riguarda la manovra stipendi perché richiamare all'articolo 4 questa è la vergogna la slealtà la slealtà la vediamo ogni giorno ma non viene punita slealtà e trattare contemporaneamente un calciatore per un'altra squadra per far alzare la posta in paria e per fargli spendere di più è sleale sfruttare tutte le malizie in campo per perdere tempo è sleale cercare di influenzare l'arbitro con continue proteste durante tutta la partita e ancora di più non è sleale fare battaglie mediatiche contro questo o l'altro proprio prima di una partita importante non è sleale ma legale di razionare i debiti verso l'erario in 30 anni in modo diverso dagli altri club non è sleale avere la proprietà di club satelliti dove fare giochi contabili ad uso e consumo ad entrambe le squadre questo non è sleale e allora ora la juventus si richiamano la slealtà sportiva ma poi con gli stipendi cioè con gli stipendi proprio la slealtà non può essere tirata in ballo perché non c'è nessun tipo di slealtà nei confronti di un avversario c'è un articolo 31 che disciplina la manovra stipendi ma proprio la lealtà e la slealtà nella manovra stipendi non può venire fuori fermo restando che la juve ve l'ho detto già nella manovra stipendi ha già pagato e ha pagato moltissimo e c'è un aspetto molto molto particolare mi sono dovuto documentare prima di dirvi le cose come stanno allora poi torniamo a parlare della della manovra stipendi e dell'articolo 31 in concomitanza con l'uscita della degradatoria di kiné il procuratore federale è uscita anche la richiesta dell'italia per gli stadi e gli europei del mille del 2032 è venuto fuori il final bid dossier della figici presso l'uefa che cos'è il final bid dossier ve lo dico subito è praticamente il quadro completo degli stadi dove dovrebbero giocare gli europei 2032 ma quanto un po' è venuto fuori proprio il giorno in cui kiné fa la sua richiesta allora intanto le richieste sono anche per il regno unito e la repubblica d'irlanda che hanno ufficializzata la propria candidatura per ospitare l'europeo 2028 elencando anche i dieci stati che potrebbero ospitare la manifestazione continentale con alcune esclusioni clamorose ma questo non ci interessa ci interessa invece ci interessa invece i dieci stadi che hanno praticamente un attimo se lo trovo i dieci stati che hanno inserito in questo final bid dossier dove vi dico subito hanno inserito anche lo stadio di torino e hanno sottolineato come un attimo soltanto come torino è l'alliance stadium cioè hanno messo lo stadio di torino cose incredibili cose incredibili se trovo la lista degli stadi è stato consegnato all'uefa il final bid dossier come vi dicevo di candidatura della figgc a ospitare euro 2032 dopo mesi di lavoro coordinato che ha visto scendere in campo accanto alla federazione il governo il parlamento i comuni e tutti gli altri schietto holder la documentazione richiesto è ora nelle mani dell'uefa nei prossimi mesi attesa la valutazione da parte della massimo organismo calcistico europeo che durante il comitato esecutivo in programma il prossimo 10 ottobre renderà nota la sede degli europei del 2028 e del 2032 l'altra federazione ad aver presentato il dossier di candidatura per questa ultima edizione è quella turca allora vediamo gli stadi milano tra san sirio e la variabile 9 stadio torino state bene a sentire come c'è scritto nel del dossier juventus stadium denominazione mantenuto in ambito uefa poi verona stadio marcantonio bentegodi genova stadio luigi ferraris bologna stadio renato dall'ara firenze stadio artemio franchi lo devono fare con i soldi dell'uefa appunto roma stadio olimpico napoli stadio dico armando maradona bari stadio san nicola e cagliari nuovo stadio santeria la città di palermo continuerà a essere coinvolta nell'iter a supporto della candidatura il dossier di candidatura dell'italia per organizzazione duefa euro 2032 è ispirato ad un nuovo rinascimento ed è stato realizzato attraverso continue connessioni con i territori da un lato esaltando le bellezze storiche artistiche dall'altro rispettandolo l'impatto e la sostenibilità lo ha dichiarato il presidente della fisici gabriele gravina allora sono praticamente totalmente usciti allo scoperto intanto secondo me a torino nello stadio di proprietà della juventus non si devono fare gli europei come la vedo io eh attenzione poi oggi escono le richieste di kiné non le richieste diciamo i presupposti per le richieste perché paradossalmente può essere anche archiviata la la vicenda e manco a farlo apposta proprio oggi l'italia consegna all'uefa il final b dossier ma pensate che siamo tanto tanto fessi questo è quanto emerge in questa difficilissima giornata nella quale la juventus ha saputo che non sarà valutata per un illecito l'illecito è l'unica condizione del codice di giustizia sportiva che non prevede la serie b quindi voglio chiudere con con l'articolo 31 quindi c'è il l'articolo per punire l'eventuale manovra stipendi la procura della federcarcio appunto notificato questo pomeriggio alla juventus la chiusura dell'indagine per le cosiddette manovre stipendi partnership e agenti nell'atto il procuratore federale kiné ha contestato tra l'altro a crema bianconero la violazione del principio di lealtà per i tre filoni disciplinato dall'articolo 4 del codice di giustizia sportiva ma cosa recita questo articolo e quali sanzioni prevede in caso di violazioni i soggetti di cui all'articolo 2 società dirigenti attretti tecnici ufficiale di gara e soci sono tenuti all'osservanza dello statuto del codice delle norme organizzative interne del lenoif della figici nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà della correttezza e della probabilità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva in caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui l'articolo 8 comma 1 lettere a b c g e di cui l'articolo 9 comma 1 lettera d c d f g h l'ignoranza dello statuto del codice delle tre norme federali non può essere invocato a nessun effetto recita ancora il testo del codice di giustizia sportiva il documento sottolinea che le sanzioni sono quelle previste per l'articolo 8 che a sua volta al comma e alle lettere indicate le società che si rendono responsabili delle violazioni dello statuto del codice delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono pulibili con uno o più delle seguenti sanzioni commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi ammorizione ammenda ammenda col di fida penalizzazione di uno o più punti in classifica se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini afflittivi della stagione sportiva in corso è fatta scondare in tutto o in parte nella stagione sportiva seguente queste invece le sanzioni previste nell'articolo 9 sempre al comma 1 e alle lettere indicate l'articolo 4 i dirigenti tesserati i tesserati della società i soci e non soci dell'articolo 2 comma 2 che si rendono responsabili della violazione dello statuto del codice delle norme federali ed ogni altra disposizione loro applicabile anche se non più tesserati sono pulibili ferma restando l'applicazione degli articoli 16 comma 3 dello statuto e 36 comma 7 delle noif con uno o più delle seguenti sanzioni commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi ammunizione ammunizione con diffida ammenda ammenda con diffida squalifica a tempo determinato in ambito figici con l'eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA divieto temporaneo di accedere agli impianti in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche anche amichevoli in ambito figici con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA ed inibizione temporanea cioè la squalifica a tempo questo come potete vedere e come potete notare da quello che abbiamo oggi la Juventus non rischia la serie B non c'è l'illecito se l'afflittività della pena se la Juventus viene condannata la pena deve essere afflittiva se vince lo scudetto se lo tolgono se entra nelle coppe europee la tengono fuori se non è nelle coppe europee la squalifica viene scondata il prossimo anno cioè praticamente la tengono sempre sotto penalizzazione queste sono per il momento le notizie forse sono stato un po' lungo vi ringrazio per avermi seguito un grazie a tutti quanti voi vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube Sergio Vessicchio ad attivare la campanella delle notifiche e a dare un commento se lo ritenete opportuno alla prossima grazie a tutti